Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Vietato tenere animali sugli argini dei corsi d'acqua rischio e esondazione il sindaco di Fano ha emesso un'ordinanza su richiesta del prefetto Un casino come si vede tra topetti, topone e diciamo cos'altro è difficile capire le finestre in poche parole Nove famiglie protestano per la situazione di incurio e abbandono che si è creata attorno alle loro abitazioni Il Vescovo Trasarti ha celebrato messa a San Giuseppe al Porto fra poco sarà tra gli artigiani in un capannone a bellocchi Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia apriamo il giornale di questa sera parlandovi dell'ordinanza che ha emesso il sindaco di Fano che vieta la detenzione di animali lungo i corsi d'acqua un provvedimento questo che ha creato apprezzamenti vediamo il servizio che ha realizzato Simona Zonghetti è un'ordinanza quella del primo cittadino Massimo Seri che impone ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo il divieto permanente di mantenere coattivamente animali di qualsiasi specie sugli argini, sui greti e sulle sponde dei corsi d'acqua nonché nelle zone esondabili e in aree adiacenti la linea di costa che siano state soggette ad allagamento anche in modo non continuativo il provvedimento è stato adottato su richiesta del prefetto di Pesaro e Urbino dopo che diverse associazioni di protezione degli animali avevano rilevato che in caso di maltempo e dosondazioni i loro volontari e gli addetti preposti sono costretti a avere e propri tour de force per salvare gli animali qualcuno si è chiesto che fine faranno a questo punto le anatre, le oche, i cigni e le nutre lungo il canale Albani ma in realtà si tratta di animali liberi e non detenuti come prevede l'ordinanza firmata dal sindaco ma vieta semplicemente la detenzione degli animali legati o rinchiusi in gabbie lungo i fiumi, lungo i torrenti, lungo gli alvei, i gretti e in generale nelle zone esondabili a rischio di esondazione in altre parole si dispone che gli animali in queste zone siano liberi di muoversi proprio per evitare che in caso di inondazioni anneghino infatti nelle ultime settimane con le grandi piogge abbiamo avuto una serie di episodi per cui abbiamo ritrovato lungo la spiaggia caprioli morti, pecore morte ecco questo non deve più avvenire anche perché molto spesso le guardie zoofili o i volontari o i cittadini rischiano la loro incolumità in queste situazioni proprio per salvare gli animali quindi questa è un'ordinanza di buonsenso e di umanità che dice una cosa semplice, nelle zone a rischio di esondazione gli animali non devono essere né incatenati né rinchiusi dentro le gabbie perché altrimenti è come condannarli a morte Apprezzamento per l'ordinanza arriva anche da parte dell'AMPANA Associazione Nazionale Protezioni Animali in Natura Ambiente è una risposta indispensabile per far fronte alle stragi di animali che si verificano ogni qualvolta le emergenze meteo colpiscono il territorio ha detto il presidente provinciale Paola Paccassoni detenere gli animali rinchiusi o legati in una zona a rischio di esondazione ha proseguito, è per loro una condanna a morte che non può essere accettata e tollerata potendo anche integrare gli estremi del reato di maltrattamento un pensiero questo condiviso anche dalla presidente dell'Associazione Melampollus, Simona Maroccini Siamo felicissimi perché da tanti 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 anni assistiamo alla detenzione assolutamente illegittima di animali qualsiasi tipo di animale, non parlo soltanto di cani, di gatti parlo di tutti gli animali in condizioni non idonee sul greto dei fiumi proprio vicini alla possibilità in caso di esondazione di morire nel peggior modo possibile annegati senza possibilità di fuga semplicemente morire le condizioni di vita sono già impensabili e la morte è terribile quindi siamo felici, ringraziamo veramente per una volta ringraziamo l'amministrazione perché ha fatto una cosa veramente ha dato un segno di civiltà e continuiamo con la pagina della cronaca cercano documenti in una ditta per fare normali verifiche fiscali e trovano munizioni in quantità oltre il consentito negli armadietti dell'ufficio le fiamme gialle di Urbino hanno così denunciato un imprenditore di Apecchio appassionato cacciatore che deteneva 2821 cartucce a pallini di vario calibro calibro 8, 12 e 20 eccedenti la dotazione consentita di 1000 omettendone la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza le cartucce sono state sequestrate e l'uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica di Urbino per detenzione abusiva di munizionamento l'imprenditore rischia anche la sospensione o la revoca del porto d'armi due latri seriali sono stati arrestati dai carabinieri di Riccione dopo che da gennaio ad oggi il comando dei carabinieri è stato inondato di denunce ben 80 per furti in auto in sosta davanti a ristoranti locali e stazioni tra Riccione e Misano una decina di furti poi sarebbe stata fatta anche a Pesaro e probabilmente Bologna dove martedì sera i militari hanno arrestato in flagranza di reato due napolitani di 57 e 47 anni entrambi con precedenti ed ora andiamo a Carrara di Fano dove nove famiglie protestano per la situazione di degrado che si è creata attorno alle loro abitazioni è una cosa che si dovrebbe far presto se è possibile che i signori si smuovano ma qui vedo che non so come vanno le cose non si può più camminare qui anche i bambini qua non può neanche niente giocare hanno diverse richieste le nove famiglie residenti in una casa popolare in via Flaminia a Carrara di Fano un'abitazione che il comune ha dato in gestione all'ERAP tenendosi invece quella che riguarda il terreno circostante queste persone sono costrette a vivere in un giardino pieno di immondizia accumulata nel tempo tra cui materiale di ogni genere oggetti vari come materassi frigoriferi, lavandini, tavoli, sedie e addirittura un'auto abbandonata in un angolo da anni qua fuori per i bambini per noi e per tutto c'è un urgente bisogno di pulire noi abbiamo parlato con l'amministratore abbiamo chiesto i bidoni non sono ancora arrivati abbiamo parlato con il comune come sappiamo tutti dicono sì ci stiamo adoperando ci stiamo adoperando però in realtà sono ormai due mesi e mezzo che abitiamo qua con quello che vedete qua attorno le utilizzate qui queste strutture? non tutto in casa purtroppo c'entra quindi non so una scala, una bicicletta, un motorino le abbiamo messi qua quindi però sarebbe opportuno che qualcuno le ristrutturasse per poterle utilizzare in maniera normale ecco questo in maniera di sicurezza non so per esempio abbiamo le lavatrici nelle camere da letto alcuni di noi alcuni non sono riusciti a montarle però se si facesse anche un piccolo locale lavanderia questo si potrebbe evitare ecco ma nel frattempo la sporcizia presente in questi piccoli stabili attira degli animali indesiderati sì è un casino come si vede tra topetti, toponi e diciamo cos'altro è difficile caprire le finestre in poche parole capito com'è però il fatto è che qui devono sgombrare non è possibile una roba qui d'altra parte la segretaria del condominio assicura che il comune di Fanno si sta adoperando per risolvere la situazione io so che il comune si sta impegnando a sgombrare qua e purtroppo le cose burocratiche vanno lente però so che si sta mettendo tutto l'impegno possibile immaginabile intanto continua lo stato di malessere per queste famiglie e oltre ai disagi già citati sono preoccupati per un pozzo situato dietro l'edificio molto pericoloso per i più piccoli così come ci racconta il papà di una bambina disabile io c'ho un bambino disabile cieca lei fa un giro con la mano da solo lasciare anche ogni tanto da solo lei va vicino se mi va dentro il bambino a me chi mi dà garanzie per questo pozzo qua ed è ceduto ieri mattina all'età di 80 anni Mario Martinelli storico ristoratore di acqua partita ad assaggiare la cucina del noto ristoratore aperto nel 1962 sono stati anche personaggi dello sport e dello spettacolo come il campione di motociclismo Valentino Rossi il regista Franco Nero e lo scenografo televisivo Sergio Iapino Martinelli lascia la moglie e tre figli ed ora torniamo a Fano tra poco il vescovo sarà in un capannone per celebrare una messa insieme agli artigiani intanto si è appena conclusa nella parrocchia di San Giuseppe al porto la messa del pomeriggio e siamo alle reazioni che ha scatenato l'attentato a Tunisi esprime forte preoccupazione il presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino Alberto Drudi all'indomani dell'attentato terrorista al Museo delle Bardo di Tunisi che ha fatto vittime anche tra i turisti italiani sono immagini scioccanti aggiunge e a fine 2011 proprio a conclusione del percorso democratico compiuto la Tunisia era stata identificata insieme ad altri paesi del Nord Africa come uno dei mercati di sbocco più interessanti per le aziende pesaresi per meccanica edilizia e arredamento sottolinea Drudi la Tunisia è un terreno fertile perché sta puntando a modernizzarsi anche dal punto di vista infrastrutturale e ha bisogno di prodotti e know-how qualificati dopo le sanzioni alla Russia e le difficoltà in cui versa l'Ucraina e la situazione drammatica in Libia c'è il serio pericolo che le imprese italiane che operano con la Tunisia siano costrette a fare passi indietro abbandonando un'altra opportunità di business e torniamo a parlare del dragaggio del porto di Fano il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interpellanza e ha dato la sua ricetta per risolvere la situazione vediamo non è una questione di leggi ma di inattività e incapacità politica e amministrativa in vent'anni sono stati spesi e mal gestiti ben 5 milioni di euro è il pensiero dei grillini Adaro Miccioli e Rossella Cotto che dopo un lavoro di approfondimento durato diverse settimane insieme ai colleghi del Movimento questa mattina hanno presentato soluzioni per risolvere l'emergenza del dragaggio del porto di Fano e anche le conseguenti attività bloccate come quelle della pesca della canteristica e del turismo non è stata una questione appunto di soldi perché appunto i soldi sono stati spesi purtroppo male non è una questione neanche di leggi perché la paventata diciamo attività delle Emilia Romagna rispetto alla Regione Marche non è assolutamente diciamo sotto questi termini la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna devono rispettare le stesse leggi e invece in realtà una capacità che è venuta a mancare da parte della politica e dell'amministrazione sia comunale che regionale nell'affrontare appunto queste problematiche i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interpellanza per avere risposte in merito dal Sindaco Seri e dalla Giunta un documento che nel tardo pomeriggio è stato poi mostrato e condiviso anche con gli operatori del porto abbiamo recepito anche delle loro osservazioni quindi è stato un buon incontro e penso che si siano resi conto che veramente quando c'è la volontà di lavorare di portare soluzioni anche per il porto di Fano queste si possono realizzare come ha spiegato poi la candidata Fanese alle regionali è necessario intervenire in due modi in due momenti differenti per risolvere il problema occorre intervenire inizialmente quindi in fase di emergenza intervenire direttamente sui sedimenti abbiamo visto che dalle analisi dell'ARPAM effettuate nel 2009 i sedimenti individuati nel nostro porto sono sedimenti classificati in A1 A2 e B quelli in A1 abbiamo detto che sono circa 10.000 metri cubi e possono essere utilizzati come ripascimento delle spiagge mentre quelli in A2 possono essere immessi in mare attraverso nelle aree destinate a immersione per quanto riguarda invece quello B sono quei sedimenti che devono andare in cassa di colmata ma la cassa di colmata di Ancona non ha la capacità la capienza necessaria per recepirli tutti quindi noi proponiamo anche un'analisi di fare di progettare un'attività di recupero di questi sedimenti come avvenuto nei porti di Ravenna In un secondo momento poi bisogna reggire in attività più tecniche come ad esempio rivedere il piano regolatore generale del porto prevedendo una cassa di colmata propongono inoltre al comune di sottoscrivere un accordo con Enel per gestire i fanghi che provengono dal canale Albani oltre a questo anche la capitaneria potrebbe intervenire attraverso un'ordinanza di estrema urgenza in questo modo ci sarebbe la possibilità di trasportare nell'area destinata di immersione in Ancona che prevede una capienza di circa 333 mila metri cubi i sedimenti classificati in A1 e A2 che non possono essere utilizzati non ci sono problemi di soldi non ci sono problemi di legge è soltanto mancanza di capacità politica a intervenire e siamo e siamo alla pagina degli eventi Luciano e Lella Annibali i genitori di Lucia l'avvocatessa di Urbino sfigurata con l'acido a due sicari assoldati dal suo ex riceveranno il premio alla forza del coraggio che unisce istituito dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro il premio sarà consegnato il 21 marzo nella sala espositiva di Bramante a Fermignano in concomitanza con l'inaugurazione della mostra verso sera le spose violate dell'artista toscano Fulvio Leoncini che nelle sue opere affronta il tema del femminicidio e oggi pomeriggio alle 15 e 30 a Montemarino si è dato inizio al conto alla rovescia che prepara il centro storico di Monbaroccia all'annuale festa degli alberi e dei prodotti tipici del 2015 una delegazione formata da alcuni componenti del consiglio direttivo del gruppo giovani e di alcuni soci della proloco di Monbaroccio con la presenza del corpo forestale dello Stato e dei carabinieri si è ripristinato il vecchio profilo della collina attraverso la piantumazione di due cipressi ancora eventi domani alle 16 e 30 nella sala San Michele dell'Università a Fano Gabriele Gerboni terrà una conferenza dal titolo Cesare Augusto Rottamatore della Repubblica Romana verranno affrontati temi come la riforma del Senato l'eliminazione delle province e la Spending Review questo fine settimana torna il tradizionale appuntamento con la solidarietà promosso dall'Associazione Italiana contro le leucemie i linfomi e il mieloma nei giorni 20, 21 e 22 marzo è in programma la ventiduesima edizione della manifestazione Uova di Pasqua AIL con l'aiuto di 20.000 volontari che saranno presenti in più di 4.000 piazze d'Italia con un contributo di 12 euro si potrà dare via alla ricerca e ai progetti di assistenza per conoscere quali saranno le piazze si può chiamare il numero 0670386013 o visitare il sito www.ail.it Rimaniamo in tema pasquale perché anche l'associazione Adamo assistenza domiciliare malati oncologici ONLUS organizza una raccolta di beneficenza offrendo campane di cioccolato quindi nei giorni di sabato 21 nel pomeriggio e domenica 22 marzo in piazza 20 settembre a Fano l'iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi indispensabili per rendere sempre più operativa ed efficiente l'Adamo il tempo attenuto e quindi domenica a San Costanzo si è celebrata la 201esima Sagra Polentara vediamo com'è andata come avere 200 anni e non sentirli sempre attuale sempre molto gradita è la Sagra Polentara di San Costanzo la sagra più antica delle marche che quest'anno taglia il traguardo della 201esima edizione si narra che i nobili pesaresi che trascorrevano il periodo carnevalesco a San Costanzo organizzassero questa festa nella piazza dove si affacciavano i loro palazzi e offrivano gratuitamente a tutti questo piatto povero la polenta appunto il cibo delle genti di campagna per eccellenza una tradizione questa molto forte tra i San Costanzesi che dagli inizi del Novecento allestiscono nella prima domenica di Quaresima si ripete ovviamente in questo caso in versione invernale ma ci sono tutte le sacre caratteristiche della nostra sagra a partire dalla polenta buonissima e tutte le altre pietanze che offriamo tanto divertimento lo spazio anche alle scuole con i bambini della scuola materna tanta buona musica Palazzo Cassi con tanta cultura mostre pittoriche museo e chi più ne ha chi più ne metta insomma ancora una volta San Costanzo dimostra tutti i suoi attributi e fatemelo dire con orgoglio e quindi sfoggia il meglio di sé in occasione della sagra polentara con l'avvento poi del turismo balneare è stata allestita anche una versione estiva ma la formula resta vincente sempre quella buon cibo gente allegra e buon umore e dove attorno al piatto povero i gioielli di San Costanzo fanno la loro parte nel regalare un pomeriggio diverso a tutti i visitatori ebbene con questo chiudiamo qui questa edizione di Occhio alla Notizia grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi il telegiornale torna domani sera alle 20 e 10 buona serata a tutti